Riprendiamo, continuiamo la nostra puntata di Voce delle Chiese, riprendiamo la linea e ci addentriamo adesso in questo progetto di cui già vi accennavo poco fa durante l'apertura della trasmissione. 40 giorni, 40 azioni, un atto di gentilezza. Un'iniziativa proposta dall'esercito della salvezza, inserita in questo periodo di quaresima che ci avvicina verso la Pasqua e che ci vuole invitare a riflettere su quanto importanti possano essere dei piccoli gesti quotidiani, delle piccole azioni che facciamo e che per tanti possono fare anche la differenza. Ne parliamo insieme a Valentina Castaldo, esercito della salvezza che è con noi. Buongiorno Valentina, benvenuta su Radio Beckwith. Buongiorno a voi, grazie di questa opportunità. Grazie a te per essere qui con noi. Allora dove nasce questa iniziativa 40 giorni, 40 azioni? Di che cosa si tratta? Raccontaci un po' la sua genesi. Sì, in realtà appunto abbiamo lanciato un paio di settimane fa questa iniziativa che è una riflessione quotidiana. Diciamo è una sfida che ci arriva dalla nostra sede internazionale che ha creato una sorta di guida che contiene delle indicazioni per i 40 giorni che appunto ci devono portare alla Pasqua. E' un po' la sfida da cogliere quella di realizzare per 40 giorni 40 piccoli ma intenzionali atti di gentilezza. Quindi ovviamente ogni giorno sacrificare un po' del proprio tempo, della propria energia, del denaro magari per gli altri. Lo possiamo fare attraverso questi spunti di riflessione quotidiane, quindi questi piccoli video che noi stiamo condividendo attraverso i nostri canali social oppure tramite una guida che può essere magari richiesta e scaricata. Quindi se uno vuole leggere ogni giorno il piccolo atto di gentilezza da applicare, ovviamente riflettendo sul passo delle scritture che viene suggerito ogni giorno e poi appunto fare un atto di gentilezza intenzionale ogni giorno. Sì, sono degli atti di gentilezza Valentina che sono veramente in certi casi dovrebbero essere quasi la quotidianità, non lo so, rivolgere un sorriso a una persona, ringraziare per un gesto di aiuto che è stato fatto, condividere un pasto con qualcuno, cioè ecco non sono niente di così trascendentale come proposte, anzi. Sì, diciamo che gli atti possono essere veramente semplicissimi, appunto manda un messaggio a qualcuno che non senti da tanto tempo, sorridi come se fosse una cosa difficile, però in determinate situazioni magari lo è. Il fatto che intenzionalmente tu prendi l'attitudine durante quella giornata magari ad approcciarti al giorno in modo più sorridente, in modo più condivisivo verso gli altri, oppure magari mostrare quella riconoscenza che dovrebbe essere quasi quotidiana quando incontriamo le persone nei negozi o incrociamo colleghi al lavoro. Quindi alcuni atti sono veramente semplicissimi. Altri invece possono essere un po' più atti un po' più riflettuti, un po' più strutturati, no? Il dover ripensare per esempio a chi ha avuto un impatto positivo sulla tua vita e poi farglielo sapere in qualche modo e questo ovviamente coinvolge anche l'altro nel percepire che in noi magari c'è uno sviluppo, c'è una riflessione in quel momento. Oppure ci sono anche atti che richiedono il fatto di informarsi o di prendere posizione su dei temi che possono essere magari di rilevanza sociale, che ne so, appunto i temi ambientali o quelli di giustizia sociale. E questo ovviamente serve anche un po' a far riflettere in un'epoca in cui in realtà è tutt'altro che scontato, no? Noi viviamo un periodo in quasi ci fa paura il prendere posizione apertamente contro le ingiustizie o contro quando non vengono rispettati i diritti umani. Invece come credenti noi dovremmo parlare per chi non ha voce, no? Portare alla luce dei temi che sono scomodi, che disturbano e quindi anche questi sono atti da fare durante questo lungo periodo. Qualche volta è più esplicito, qualche altra volta sarà la persona a doversi informare su qualcosa da affrontare, da approfondire. Quindi atti differenti che però dovrebbero portare tutti a uno stesso risultato. Portare alla luce anche la necessità di un momento durante la giornata di riflessione o di sfida verso gli altri. Perché appunto dobbiamo anche riflettere su quei momenti o quelle situazioni che ci sfidano a fare la differenza come credenti nel luogo dove siamo, nelle situazioni che viviamo. Ecco, diciamo che sono le varie. Certo, sono degli atti che appunto dai più semplici ai meno semplici che però ci coinvolgono in prima persona, coinvolgono anche gli altri a cui ci rivolgiamo e soprattutto acquisiscono valore nel momento in cui li facciamo con una grande consapevolezza di quello che stiamo facendo. Quindi ovviamente hanno un valore aggiunto. Siamo in pieno percorso, cioè siamo ormai all'interno di questo percorso che ci sta portando verso la Pasqua, quindi una parte di questi 40 giorni già è trascorsa, ne ripangono ancora altri. So che però questo percorso che voi state proponendo è un percorso che comunque ha delle radici e ha un valore, anche un sentore internazionale che si pone in un'ottica internazionale, giusto Valentina? Sì, esatto, esatto. In realtà non deve avere soltanto un impatto sul locale. Questo perché ovviamente sia i nostri atti possono coinvolgere altre persone, ma possono coinvolgere anche sia localmente le persone intorno a noi, quando per esempio dobbiamo riflettere sulle nostre relazioni, ci dobbiamo riappacificare con qualcuno, oppure localmente vorremmo trovare una causa alla quale contribuire. E poi invece su un respiro più internazionale, per esempio il fatto che noi abbiamo ricevuto questa guida dalla nostra sede internazionale, certo ogni paese poi fa dei piccoli aggiustamenti, aggiusta leggermente il contenuto rispetto al contesto dove ogni paese deve operare. Però oltre alla preparazione internazionale di questo materiale e poi alla condivisione locale, tutto questo è anche legato a questo tempo di preparazione alla Pasqua che ogni anno come esercito della salvezza a livello internazionale siamo invitati anche a dedicare come tempo di rinuncia. Quindi questo periodo che porta alla fine a un contributo economico che deve supportare poi l'opera in tutto il mondo. In realtà questa iniziativa che oggi abbiamo integrato con questi atti di gentilezza parte da quello che è il periodo annuale di rinuncia, che nasce alla fine dell'Ottocento con un piccolo aneddoto, diciamo un ufficiale britannico, quindi un pastore dell'esercito della salvezza in Inghilterra, annuncia alla fine dell'Ottocento all'epoca generale William Wood che avrebbe rinunciato al suo dolce di dopocena. Rinunciando al dolce di dopocena avrebbe messo da parte il corrispondente economico per poi donarlo alla fine di questo lungo periodo di rinuncia per la missione internazionale. E poi ovviamente questa idea si è un po' sviluppata, si è anche un po' strutturata e questo significa che ciascuno di noi può decidere di rinunciare a qualcosa durante questo tempo, poi mettere, come dire, questo piccolo contributo economico a disposizione dell'opera internazionale. E questo significa anche che i paesi collaborano l'uno con l'altro, cioè l'idea è quella dell'aiuto reciproco, cioè il fatto che non siamo soltanto noi in Italia a fare le cose in Italia ma bensì siamo collegati anche a tanti altri paesi del mondo e lo siamo in un modo che ci, come dire, che ci si scambia l'aiuto in modo reciproco. Noi raccogliamo le nostre offerte ma la stessa cosa fanno anche tutti gli altri paesi del mondo e lo facciamo per esempio per supportare i progetti dei paesi in cui ci sono magari meno risorse finanziarie. E la stessa cosa accade per noi, quindi noi riceviamo aiuto dai paesi che sono invece magari più forti economicamente di noi. Quindi è un qualcosa che è un ciclo di aiuto e sostegno che poi così ci collega un po' con ogni angolo del pianeta. Quindi c'è un senso di appartenenza all'opera del Signore che ovviamente al di là dei nostri confini ci fa sentire fratelli e sorelle in Cristo al di là delle distanze geografiche, delle barriere che invece umanamente mettiamo. Certo, e ribalta anche molto questo concetto di rinuncia che alla fine per quanto sia un piccolo sacrificio che ognuno di noi può scegliere di fare, sacrificio di tempo, di energia, di denaro però se è un sacrificio condiviso, se una piccola rinuncia condivisa rimane insomma una distribuzione equa semplicemente di quello che abbiamo ricevuto quindi alla fine ne gioviamo tutti in questo caso. Sì, è proprio quello il concetto, il fatto che ciascuno di noi e poi lo fa anche nel periodo che ci porta alla Pasqua quindi ovviamente noi consideriamo il valore di ciò che potremmo dare lo facciamo in modo anche intenzionale, lo facciamo anche in modo sacrificale però lo facciamo anche nel periodo in cui ci ricordiamo il sacrificio di Cristo per noi quindi ovviamente contestualizzarlo in questo periodo significa anche ricordare prima di tutto che noi riceviamo costantemente, abbiamo ricevuto l'amore di Dio e possiamo fare la nostra parte che per quanto piccola possa essere per il singolo in realtà poi fa una grande differenza quando si condivide con tutti gli altri che lo stanno facendo insieme a te e quindi non c'è poi differenza fra i paesi più economicamente con più risorse i paesi che ne hanno meno perché poi è una cosa scambievole ecco Certo, allora io invito davvero i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici ad andare sul sito esercitodellasalvezza.org troverete questo progetto 40 giorni 40 azioni, un atto di gentilezza potete anche richiedere l'invio appunto del pdf preciso con tutti gli elenchi insomma dei suggerimenti che vengono proposti ognuno poi lo può far proprio, può penso insomma accoglierlo come riesce e condividerlo soprattutto è davvero un bel progetto, un bel percorso ecco che dispone la nostra mente i nostri cuori, il nostro essere ha dei piccoli cambiamenti quotidiani fatti con consapevolezza, fatti con attenzione che però insomma sono volti al rispetto, all'aiuto, alla solidarietà verso il prossimo Grazie mille Valentina Castaldo, esercito della salvezza per essere stata con noi un saluto a te, a tutto lo staff, insomma ai tuoi colleghi e alle tue colleghe buon percorso anche a voi di quaresima verso la Pasqua e buona continuazione nei vostri progetti Grazie mille, grazie ancora dell'opportunità A presto!